ciao a tutti come molti di voi sapranno a luglio di quest'anno c'è stato un data breach nei confronti di ledger che non è altro che un'azienda produttrice di hardware wallet per bitcoin e appunto il database in questione che è stato rubato da degli hacker è stato venduto e scambiato nel corso di questi mesi privatamente però ieri è stato rilasciato pubblicamente gratuitamente a tutti ciò significa che attualmente ci sono oltre 273 mila persone che hanno effettuato un ordine sull'e commerce di ledger e che adesso appunto hanno tutti i loro dati quali nome cognome email numero di telefono e indirizzo di spedizione verificabili da chiunque pubblicamente accessibili e quindi è un grossissimo danno non solo per la privacy ma anche per la sicurezza adesso io nelle ultime ore tra ieri e oggi ho ricevuto centinaia di messaggi di persone disperate che mi chiedevano una mano dei consigli come muoversi per tutelarsi mitigare i rischi ed evitare questi errori in futuro appunto oggi ho fatto questo video sto facendo questo video in cui vi mostrerò tutti i passaggi che ritengo che dobbiate fare il prima possibile e vi mostrerò alcuni consigli su come tutelarvi ed evitare di commettere gli stessi errori in futuro quindi innanzitutto la prima cosa da fare è capire se siete parte di questo data breach come andando su intelligence x c'è l'intero database pubblicato qui è possibile visualizzare i dati è possibile verificare se siete stati vittima oppure potete sfruttare il servizio di eva e binpound dove vi basterà inserire un indirizzo mail qui e vi dirà se fate parte di questo database la differenza è che purtroppo su eva e binpound non siete in grado di capire se fate parte di quei 273.000 ordini oppure se la vostra mail è semplicemente inclusa nella mailing list relativa al newsletter in ogni caso ci sono circa 5672 utenti che si sono fatti spedire qualcosa in italia quindi potenzialmente possiamo dire che ci sono poco meno di 6.000 italiani che non hanno più un briciolo di privacy relativo a il possesso di un hardware wallet quale leggere il possesso di bitcoin quindi verificate ciò un consiglio che vi do è cliccare anche notify me su have i binpound e inserire il vostro indirizzo email in questo campo così facendo riceverete degli alert ogni qual volta che il vostro indirizzo fa parte di un data breach bene adesso passiamo alla mitigazione dei rischi quindi andiamo su questo indirizzo che troverete in descrizione che vi permetterà di effettuare di fare una richiesta google di eliminazione di dati personali ciò significa che se se ci sono appunto dei problemi se volete che alcune cose vostre non vengano mostrate su google e in questo caso se volete che il vostro numero di telefono il vostro nome e cognome l'indirizzo dove vivete o altro non siano mostrati su google basterà contattare google compilare tutto questo form che è un po lungo però ovviamente essendo cose molto molto gravi importanti è bene che lo compilate al meglio e appunto attendere una risposta da parte di google vi ricordo che voi avete il diritto di richiedere a google che rimuova i vostri dati poiché attualmente ripeto visto che i dati sono stati indicizzati su intelligence x a breve google li mostrerà anche sulle pagine dei risultati di ricerca quindi mi raccomando cancellate i vostri dati seconda cosa da fare è andare su google maps siccome google siccome il database conteneva l'indirizzo di spedizione potenzialmente adesso chiunque può dire ok a questo indirizzo cioè questa persona possiede dei bitcoin se volete diciamo aiutare minimamente la vostra privacy c'è una funzionalità molto interessante di google che vi permette di oscurare la vostra casa su google maps quindi semplicemente ho messo una una via caso poniamo a caso che questa sia casa mia io cosa faccio mi sposto vedo e scelgo la parte da oscurare clicco segnala un problema in basso a destra e appunto seleziono con questo rettangolo quadrato tutta la parte che voglio oscurare vedete basterà muovere e appunto segnalare che voglio offuscare la mia casa ovviamente potete offuscare più cose tramite questo servizio in questo caso parliamo della vostra casa e del luogo in cui vi siete fatti spedire il ledger bene questa purtroppo è la fine della parte della mitigazione dei rischi perché attualmente non si può fare altro se non aspettare e a mio parere informarsi seriamente con un avvocato se è possibile avviare una class action contro legger perché queste cose sono molto molto gravi ne ho parlato in molti video precedenti la privacy è un di finanze personali la cosa prende ancora più valore più importanza quindi adesso passiamo agli consigli che vi do in futuro per evitare di questo quindi adesso passiamo alla serie di consigli che vi do per evitare di commettere in futuro gli stessi errori per prima cosa visto che adesso il vostro telefono è pubblico vi consiglio di cambiare numero perché perché specialmente se stato utilizzando l'autenticazione due fattori tramite sms o chiamata sul vostro telefono è il caso di cambiare tale autenticazione su tutti i servizi in cui l'avete abilitata poiché attraverso una serie di tecniche tra cui quella dello sweep dello sim swapping è possibile che un hacker riesca a clonare tra virgolette nella vostra sim card e ricevere gli accessi d'autenticazione o appunto in ogni caso controllare il vostro numero di telefono quindi per questo motivo l'ideale è che annulliate tutti quanti l'autenticazione due fattori tramite sms e cambiate numero dopo vi consiglio seriamente di valutare l'acquisto di una yubi key o di qualsiasi altro token o hardware per effettuare l'autenticazione dei due fattori poiché vi permette di generare tutte le chiavi 2FA su un dispositivo dedicato che è questa chiavetta offline e senza condividere il vostro numero di telefono ovviamente se non volete comprarlo sullo store ufficiale c'è anche la possibilità di comprarlo su amazon detto ciò una funzionalità molto interessante è firefox relay firefox relay non è altro che un servizio di firefox che vi permette di creare alias randomizzati poco casuali vedete qua a destra che potete utilizzare e condividere con qualsiasi servizio e commerce shop sito web al posto del vostro indirizzo mail reale cosa succede che una volta che tale servizio invierà delle mail al vostro alias di firefox firefox automaticamente le inoltrerà al vostro indirizzo mail reale principale quindi questo vi permette di condividere le indirizze mail casuali senza condividere quello vostro reale e questo vi dà un enorme livello di protezione e di privacy circa il vostro indirizzo mail stessa cosa bisognerebbe fare con gli indirizzi con i numeri di telefono in questo caso io sono su dtmf punto io c'è anche un indirizzo punto onion e questo sito vi permette di acquistare numeri virtuali e sim virtuali con bitcoin e con lightning network quindi anche contrassazioni non on shame ma tramite lightning appunto in maniera diciamo molto molto privacy oriented ovviamente ci sono tante tipi di sim e numeri virtuali ovviamente questo servizio a un costo ma una cosa molto interessante perché vi permette di inserire sui campi di numero di telefono un telefono virtuale senza condividere il vostro personale e il vostro numero di telefono reale ovviamente io vi consiglio questo sito perché vi permette di pagare in bitcoin ci sono tantissimi altri servizi che vi permettono di effettuare la stessa identica cosa con però un pagamento convenzionale come paypal come carte di credito altro riguardo al miglior modo per acquistare bitcoin senza appunto condividere una serie di dati vostri personali è bt ne ho parlato in uno scorso video lo troverete qua in descrizione bt non è altro che un exchange centralizzato che vi permette di acquistare bitcoin senza che voi si se volete però fare un passo in più vi consiglio seriamente dico di valutare l'idea di utilizzare un exchange decentralizzato come bisk bisk ovviamente essendo decentralizzato non vi chiede alcun tipo di documento alcun tipo di dato e potete effettuare comprare scambiare bitcoin con altre criptovalute attraverso una serie infinita di metodi pagamento veramente c'è di tutto vi consiglio di darci un'occhiata stessa cosa per odl odl che è un altro exchange bt decentralizzato appunto dateci un'occhiata e valutate voi qual è il diciamo la soluzione migliore per il numero di transazioni che effettuate e il tipo di transazioni che effettuate riguardo la spedizione ci sono tantissimi servizi che vi permettono di ricevere dei pacchi non a casa vostra uno di questi è in da box basterà andare su questo sito qua selezionare una città e potrete vedere tutti quanti i punti di ritiro in da box vicino a voi diciamo è molto molto completo ovviamente nelle grandi città funziona tantissimo come vedete qua questo è milano e ce ne sono veramente di infiniti anche al carrefour ci sono spesso punti di ritiro per esempio quindi valutate l'idea di sfruttare in da box ovviamente tutto ciò ha un costo se il vostro diciamo paese è tanto lontano da un punto in da box oppure se vivete in una zona in cui non ci sono punti di ritiro potete approfittare dei servizi rilasciati dalle poste che in questo momento il sito ovviamente offline perché stiamo parlando delle poste e non si può accedere quindi ci sono due tipi di servizi una la casella postale che vi costa se non sbaglio 100 euro all'anno quindi un canone annuo è sicura con una chiave diciamo vi da una sicurezza privacy enorme oppure potete sfruttare i servizi di fermo posta che sono se non sbaglio pagati da chi spedisce il pacco e ciò vi permette di far recapitare un pacco direttamente nel vostro ufficio postale più vicino di poste italiane e di prenderlo quando preferite ovviamente anche questo è un costo se non sbaglio che si aggira tra l'euro 50 e il 3 euro a pacco però non ne sono sicuro perché non posso visualizzarlo bene questo era un semplice e veloce video spero che possa aiutarvi ovviamente la situazione è molto molto grave però vi consiglio di stare tranquilli e cercare di risolvere le cose con la mente lucida mi raccomando condividete il video con tutti i vostri amici familiari specialmente se hanno acquistato un ledger e aiutateli perché in questo momento ci sono una marea di dati sensibili lì fuori a disposizione di chiunque la prevesse importante questo è l'ennesimo avvenimento l'ennesimo avvertimento di cosa comporta condividere dei dati con delle aziende con dei prodotti o con dei siti centralizzati con degli exchange centralizzati o shop centralizzati quindi mi raccomando fate le vostre scelte cercate di seguire i miei consigli in futuro e in bocca al lupo e buono studio di bitcoin